Per la prima volta dopo dieci anni tornano nel bilancio regionale investimenti per milioni di euro nella progettazione di opere ed infrastrutture. 5,7 milioni di euro in un fondo rotativo che toccherà tutte le province e che darà una spinta fondamentale alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali, all'interconnessione e all'intermodalità delle opere già esistenti. E' questo un vero e proprio cambio di passo perché se non si hanno progetti non si riescono ad intercettare nemmeno quei finanziamenti necessari nazionali ed europei per realizzare quelle opere. Lo stesso accade nell'edilizia sanitaria ospedaliera. La visione della nuova giunta sia da un punto di vista infrastrutturale che da un punto di vista di riorganizzazione sanitaria è diametralmente opposta a quello che abbiamo vissuto negli anni scorsi e anche nei primi mesi di quest'anno. Una serie di strutture filtro nell'entroterra che agevolino le strutture maggiori della costa contro un intassamento che si è verificato proprio in questi ultimi anni, soprattutto dopo la chiusura nel 2015 delle 13 strutture ospedaliere marchigiane riconvertite. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto ulteriori fondi propri della regione Marche per l'adeguamento delle strutture sanitarie ed ospedaliere della nostra regione. 12 milioni di euro in questa prima fase, in questi primi 60 giorni di lavoro che si vanno ad aggiungere ad altre risorse disponibili per riorganizzare la rete sanitaria ospedaliera della nostra regione e finalmente riconoscere il diritto alla salute in maniera omogenea in tutto il territorio regionale. Grazie a tutti.